La vittoria di Mark Marquez al Motorland di Aragon cambia la storia di questa stagione di MotoGP, la cambia decisamente perché Mark Marquez con la Ducati faceva un timore X senza vittoria, adesso che sappiamo che può vincere anche con la Ducati dell'anno scorso, ovviamente l'impatto sul campionato cambia drasticamente. Ha vinto Mark Marquez 1043 giorni dopo, l'ultima volta che gli era successo, vi ricordate, Misano 2021. In quella circostanza Mark Marquez vinse con un braccio solo perché l'altro, come poi abbiamo saputo nel proseguo, era stato operato male, quindi con un braccio sano e uno storto. Nonostante tutto è stata quella l'ultima vittoria di Mark Marquez e della Honda in MotoGP fino a questo momento. Adesso con la Ducati ovviamente il potenziale del otto volte campione del mondo si sta riscoprendo a pieno regime. Gli avversari ovviamente sono rimasti molto colpiti da questa supremazia di Mark Marquez che ha dominato le prove fin dal venerdì, ha conquistato la pole position, ha vinto la sprint per distacco e ha vinto anche il gran premio, sempre per distacco, tra l'altro con un cronologico fantastico, quei cronologici che i fuoriclasse stampano quando tutto funziona alla perfezione e probabilmente c'è anche del margine nel taschino. Dicevamo, gli avversari si possono consolare con il fatto che ci sono diverse attenuanti o spiegazioni per questo trionfo, per certi versi inatteso, perlomeno nelle dimensioni. Intanto Aragon è una pista magica di Mark Marquez, è la sesta volta che ci vince. Inoltre questo nuovo asfalto ha messo in crisi tutti, ha fatto impazzire tutti i team, anche Martin e Pecco Bagnaia, eccetto lui. Lui si è trovato benissimo fin dalle prove di venerdì mattina, ha vinto con la soft, la sprint, gli osservatori dicevano magari con la media vedremo un'altra gara, no, niente affatto, abbiamo visto la stessa identica gara, cioè con Mark Marquez assolutamente dominante. Per quanto riguarda gli avversari, Yorg Martin ha limitato molto i danni, praticamente l'impatto sulla classifica è stato molto limitato, mentre Pecco Bagnaia è incappato in un fine settimana che peggio di così non si poteva, per sfortuna e per varie circostanze. La gomma difettosa nella sprint che lo ha fondato in una posizione, poi lo scontro con Alec Marquez destinato a suscitare tante polemiche, anche perché si tratta del fratello di colui che l'anno prossimo sarà il grande rivale e compagno di squadra dello stesso Bagnaia. Stesso Bagnaia che ha avuto anche le due partenze ad handicap sulla piazzola dello schieramento che sembrava piena di sapone, una cosa abbastanza inconcepibile nella moto GP ipertecnologica di questi tempi, ma tant'è per Pecco c'è stata anche questa disdetta di queste due partenze con la moto tutta di traverso che hanno segnato in maniera molto negativa entrambe le gare. A questo punto, dopo questa domenica abbastanza scioccante ed entusiasmante, la MotoGP ha davanti il doppio round di Misano, neanche a farla apposta. Torniamo sulla pista dove si era interrotta la parabola vincente di Marc Marquez tre anni fa. Quindi il vero crocevia, a parte Aragon con tutte le sue particolarità, invece il vero crocevia della stagione sarà proprio il doppio impegno di Misano. Lì vedremo se questa clamorosa vittoria dominante di Marc Marquez è stato un fulminaccio sereno o invece se può avere un impatto consistente su questa stagione. Sicuramente lo avrà anche in prospettiva 2025, ma parlo del punteggio. Marc Marquez adesso è a 70 punti da Jorke Martin, sono tanti, anche se mancano 8 Gran Premi, quindi tanti, ogni Gran Premio assegna 37 punti, però siccome non vedo tanti avversari e tanti piloti in grado di inserirsi nel confronto tra Bagnaia, Martin e Marquez, Marquez dovrebbe guadagnare 10 punti di break ogni Gran Premio per ambire a giocarsi da fino in fondo con Martin. Misano sarà importantissimo per Bagnaia perché adesso è scivolato a 23 punti da Martin e vede Marquez a 47 punti da lui, quindi diciamo Bagnaia è chiamato ad un pronto riscatto. Ma il dato più romantico diciamo di questa domenica è che non c'è un solo vincitore, cioè Marc Marquez, ma secondo me ce ne sono due. E l'altro vincitore un po' sottotraccia è Luigi Dallinia, il grande capo delle corse di Ducati. Luigi Dallinia che come tutti i grandi tecnici, Luigi Dallinia è un po' l'Adria Nui della MotoGP. Sappiamo che come Nui Luigi ambisce a vincere con i campioni. La Ducati il campione ce l'aveva di già, Pecco Bagnaia è campione del mondo da due anni, ma ovviamente avere Marc Marquez in squadra nel boxe ufficiale, quello più prestigioso, è una di quelle cose che riempie di orgoglio e spinge ai tecnici, gli ingegneri così geniali a dare ancora di più. È difficile infatti non vedere la mano di Dallinia nell'operazione che l'anno scorso ha convinto Marc Marquez a rinunciare al contratto pluriannale con la Honda a 12 milioni e mezzo di ingaggio annuali netti, convincendolo ad andare a correre per quest'anno in una squadra privata come il team Gresini. Evidentemente, questa è una mia ipotesi, ma probabilmente abbastanza consistente, con la promessa di un approdo a media gettata nella squadra ufficiale. Quindi secondo me era tutto un po' delineato il piano e adesso cominciamo a vederne gli effetti. Marc Marquez torna a vincere con la Ducati, mette un po' di pressione su Martin, leader e Bagnaia adesso in seguitore e sicuramente riempie d'orgoglio il petto di Gigi Dallinia che oltre a fare delle moto fantastiche, ipervincenti, sa evidentemente anche vedere quali sono i piloti che sono degni di far parte del box ufficiale. Quindi le polemiche su Marc Marquez ufficiale perché sì perché no, secondo me hanno poco senso perché i tecnici hanno una mole di dati così consistenti che sanno benissimo vedere quali sono i segreti e le doti di guida di ciascun pilota. Quindi se Dallinia ha spinto così tanto per avere la scomodità di avere due numeri uno come Bagnaia e Marquez nel box qualche motivo ci sarà. Avere un fuoriclasse nel box è bello, averne due è ancora meglio e quindi oggi hanno vinto Marquez anche Dallinia. E quindi chiudiamo così questa domenica che ci ha regalato una gara abbastanza lineare per quanto riguarda la lotta per la vittoria ma di una domenica piena di suggestioni, di polemiche, di incidenti che sono destinati a far discutere. Adesso c'è Misano quindi un'altra domenica assolutamente enturiasmante. Godiamocela tutti insieme. Per adesso buona serata a tutti. Grazie. Grazie.